Formare ed informare per prevenire e permettere una migliore crescita possibile. E' questo lo scopo dell'iniziativa di promozione dell'allattamento al seno, il latte materno è meglio. Campagna di sensibilizzazione fortemente voluta dai consultori familiari della ASLBT. Primo appuntamento della serie nella città di Andria all'interno del chiostro di San Francesco. Questo progetto è nato già da diversi anni e ha lo scopo fondamentale di dare voce e soprattutto di aiutare le mamme in un evento naturale, quello dell'allattamento, ma soprattutto di sostenere l'allattamento al seno come prevenzione di patologie dell'adulto. Infatti l'evento di oggi in particolare è uno degli obiettivi del progetto, che è proprio quello di creare una rete sociale di sostegno all'allattamento materno perché spesso le neomamme sono proprio condizionate da falsi miti che intorno all'allattamento possono anche depistare ma soprattutto scoraggiare e creare all'interno di questo momento davvero molto di fragilità della donna un scoraggiamento tale da far abbandonare l'allattamento stesso. Tante curiosità delle moltissime mamme, future mamme intervenute ed esperti del consultorio familiare pronti a spiegare i motivi della campagna, grazie ai diversi punti informativi in un tour e percorso pensato per realizzare una formazione a 360 gradi sul tema. Questo progetto è cominciato con la formazione innanzitutto di tutto il personale ASL che poi ha dato origine proprio a un tavolo di lavoro sull'allattamento e vede coinvolti sia i consultori che gli ospedali, quindi le unità operative di pediatria e di ginecologia proprio perché si crea una rete di sostegno soprattutto dei sanitari, quindi soprattutto degli operatori che possano garantire alla donna un sostegno reale nei momenti di difficoltà. La stessa iniziativa sarà ripetuta a Trani il 28 ottobre dalle 16 alle 20 in Villa Comunale e il 29 ottobre dalle 10 alle 14, oltre che a Biceglie all'interno del castello Normanno a Svevo il 18 novembre dalle 16 alle 20 e il 19 novembre dalle 10 alle 14. Mamme e future mamme accompagnate in un percorso formativo partendo da alcuni consigli pratici. Il latte materno è il meglio proprio perché è l'unico latte specie specifico di uomo per il proprio cucciolo e quindi il latte materno è proprio quello che consente alla donna e al bambino di creare una relazione che inizia dal prima del nascere e poi si completa e continua nello sviluppo del bambino.